Questa video lezione è dedicata alla determinazione del costo unitario di impiego di una macchina considerata come macchina in proprietà in carico quindi all'azienda agraria. Allora questo procedimento anche in questo caso corrisponde allo svolgimento di un bilancio parziale e dal punto di vista del singolo imprenditore che voglia farsi quattro conti in tasca è molto importante riuscire a valutare questo parametro per ciascuna macchina perché è un parametro che risente fortemente delle condizioni strutturali dell'azienda, della sua ampiezza, degli ettari che ha a disposizione e del numero di ore di lavoro che ciascuna macchina compie all'interno dell'azienda. Quindi è un parametro molto importante molto spesso nei costi di produzione vengono per semplicità utilizzate le tariffe applicate dai contoterzisti che però non rappresentano in alcun modo l'effettivo costo orario di impiego di una macchina determinato all'azienda e quindi ritengo che questa video lezione sia particolarmente importante per i viticoltori e in generale per tutti gli agricoltori e anche perché naturalmente qualunque processo produttivo attuato in agricoltura in particolar modo se vegetale quindi se richiede delle lavorazioni del terreno ricorre all'utilizzo di macchine agricole. Allora nel nostro bilancio parziale abbiamo sostanzialmente una serie di condizioni che già abbiamo visto nel costo di impianto del vigneto cioè alcune valutazioni nel costo unitario di impiego delle macchine sono oggettive perché gli input utilizzati sono acquisiti direttamente dal mercato. Nel caso di una macchina gli input acquisiti dal mercato sono rappresentati dal carburante lubrificanti. Allora in questo schema di calcolo questi consumi che sono dei consumi determinati su base oraria di carburanti lubrificanti non vengono conteggiati in questa sede ma vengono direttamente attribuiti alle spese varie del processo produttivo ipotizzando appunto un consumo orario per ciascuna macchina. Per quanto riguarda invece proprio l'uso delle macchine utilizzate e il locale di ricovero all'interno del quale le macchine vengono ricoverate, vengono protette, questi due elementi vengono considerate entrambi in proprietà e quindi saranno oggetto di tutta una serie di determinazione. Poiché macchine e locali di ricovero sono in proprietà naturalmente le quote relative a questi due investimenti saranno a carico dell'impresa e dovranno essere conteggiati nel bilancio parziale. Infine bisogna remunerare i fattori apportati dall'imprenditore che in questo caso sono rappresentati dal capitale investito nella macchina la cui remunerazione corrisponde a quello che noi chiamiamo beneficio scorte cioè gli interessi valutati sul capitale immobilizzato nella macchina e poi infine altro fattore apportato dall'imprenditore e il lavoro umano necessario alla guida all'utilizzo della macchina stessa. Allora in questo caso il lavoro umano le ore di lavoro umano che accompagnano le ore di lavoro della macchina vengono contabilizzate come valorizzazione nel beneficio di lavoro del processo vigneto quindi queste ore di lavoro si aggiungeranno a tutte le altre ore di lavoro assorbite dal processo vigneto e verranno valutate direttamente alle condizioni diciamo ipotizzate ad esempio in assonanza quanto abbiamo visto per il costo di impianto se decidiamo di valutare l'ora di lavoro a 10 euro comprensivi di contributi orari ecco queste ore di lavoro per la guida macchina verranno contabilizzate insieme a tutte le altre a questo valore di valorizzazione e quindi sostanzialmente come vedete in questa valutazione del costo unitario di impiego delle macchine finalizzata alla determinazione del costo unitario di produzione dell'uva sostanzialmente i consumi di carburanti lubrificanti e il lavoro umano assorbito dalla macchina vengono direttamente contabilizzati nel processo vigneto e quindi sostanzialmente noi in queste slide ci concentreremo su quelli che sono i costi fissi legati all'uso delle macchine che vengono sinteticamente riassunti in questa tabella finale. Questi costi fissi che sono fissi in quanto sempre presenti nel bilancio aziendale indipendentemente dal fatto che la macchina venga o non venga utilizzata durante l'esercizio questi costi fissi diciamo sono rappresentati dagli interessi sul capitale macchina immobilizzati e quindi quello che io dicevo prima beneficio scorte essendo il capitale macchine un capitale scorta generalmente il tasso di interesse utilizzato per la remunerazione di questa forma di immobilizzazione si aggira intorno al 3-3,5%. In questi esempi noi abbiamo utilizzato il 3%. Altra voce di costo fisso è la quota di reintegrazione alias ammortamento della macchina stessa che viene calcolato in lì con una formula di carattere generale come valore a nuovo meno valore residuo diviso la durata economica della macchina dove per valore a nuovo intendiamo non il costo storico sopportato ma quanto oggi dovrebbe essere esborsato per acquisire una macchina avente le stesse caratteristiche tecniche se venisse acquistata oggi. Questo si chiama valore a nuovo e si può ricavare da un qualunque listino prezzi aggiornato. Il valore residuo anche detto valore di rottame nel caso di una macchina è il valore che presumibilmente quella macchina potrebbe avere alla fine della sua durata economica. In generale il valore residuo esiste per le macchine più complesse che hanno insomma semoventi che hanno un motore proprio eccetera per molte macchine operatrici agganciate alla trattrice nelle operazioni generalmente il valore residuo di rottame viene considerato zero o comunque molto prossimo. La quota di manutenzione della macchina viene valutata sinteticamente in termini medi intorno al 2-3% del suo valore a nuovo e infine devono essere considerati i costi assicurativi se effettivamente sostenuti per la macchina. Nel caso di una trattrice o di una macchina semovente che circoli su strada abbiamo l'RC obbligatoria che deve essere naturalmente contabilizzata per altre macchine evidentemente possono non esistere polizze assicurative con un costo che grava sul bilancio aziendale. Infine l'ultima componente di costi fissi legati all'uso della macchina è rappresentato dal costo annuo per l'uso del locale di ricovero. Naturalmente questo costo annuo per l'uso del locale di ricovero deve essere ricondotto alla singola macchina. L'ultima casellina arancione della slide precedente cioè il costo annuo per l'uso del locale di ricovero è a sua volta il frutto di un bilancio parziale costituito da quattro componenti di costi fissi relativi all'utilizzo annuale del locale di ricovero. Questi quattro componenti di costi fissi sono rappresentati dagli interessi sul capitale immobilizzato nel fabbricato, quello che noi economisti chiamiamo beneficio fondiario in quanto quindi remunerazione del capitale fondiario, il fabbricato presente nell'azienda, la sua quota di reintegrazione che viene valutata come valore a nuovo diviso la durata del fabbricato stesso, la quota di manutenzione valutata intorno allo 0,5 per cento del valore nuovo più eventuali costi assicurativi se effettivamente pagati a protezione del fabbricato stesso. Come già anticipato nella precedente slide il locale di ricovero è ipotizzato in proprietà e quindi per questa ragione occorre tener conto delle quote a suo carico. Per quanto riguarda la valutazione del capitale immobilizzato nel fabbricato e apportato dall'imprenditore è importante sottolineare che in genere questi fabbricati ci sono sempre ma possono non essere esclusivamente utilizzati per il ricovero delle macchine perché molto spesso magari nella gestione aziendale una parte del fabbricato viene utilizzata per altri scopi. Allora in questo caso ai fini di questo bilancio parziale che ci serve a valutare il costo annuo per l'uso del locale di ricovero noi dobbiamo scorporare dalla superficie effettiva di questo fabbricato presente in azienda dobbiamo scorporare tutte le superfici non dedicate al ricovero delle macchine e valutare solo quei metri quadri effettivamente destinati al ricovero macchine e le attrezzature. A partire da questi metri quadri sarà possibile attraverso un costo di ricostruzione per metro quadro sarà possibile ricavare il valore a nuovo ovvero il costo di ricostruzione del fabbricato solo per la parte adibita al ricovero delle macchine. Per quanto riguarda le valutazioni del beneficio fondiario cioè gli interessi sul capitale immobilizzato nel fabbricato queste valutazioni possono essere effettuate in termini medi come di fatto è stato fatto nel nel caso del manuale tecnico che accompagna queste video lezioni oppure in termini istantanei ovvero valutando qual è il valore effettivo del fabbricato comunque del dell'immobilizzo al momento in cui si effettua il conteggio. Da questo punto di vista ricordiamo che nel corso del tempo qualunque tipo di investimento lentamente perde di valore per effetto al suo utilizzo e quindi quello che noi chiamiamo valore attuale che rispecchia il valore che ancora residua nel capitale immobilizzato nell'investimento rappresenterebbe la reale base di calcolo per valutare gli interessi sul capitale immobilizzato quindi in sintesi il capitale immobilizzato in un investimento sia questo una macchina o un fabbricato come in questo caso decresce al passare del tempo e mano a mano che ci si avvicina al termine della durata il valore residuo dell'immobilizzo diminuisce sempre di più raggiungendo dei valori molto molto bassi e quindi gli interessi sul capitale immobilizzato a loro volta se vogliamo fare un calcolo istantaneo anno per anno gli interessi diminuiscono in quanto diminuisce il capitale immobilizzato ripeto nel conteggio che noi abbiamo eseguito ai fini del manuale ci siamo messi nella posizione di valutare questi costi questi immobilizi in termini medi quindi valutando l'immobilizzo a metà della durata dell'investimento ma ciò non toglie che all'interno dell'azienda stessa possa essere fatto un calcolo istantaneo e quindi per avviare il conteggio dei costi fissi annui legati al locale di ricovero la prima cosa da fare come già detto è definire la superficie destinata al ricovero un costo unitario di ricostruzione per metro quadro da cui si evince il complessivo valore a nuovo del locale quindi il costo di ricostruzione del locale dopodiché siamo nelle condizioni di calcolare il beneficio fondiario come interesse sul capitale immobilizzato il tasso di interesse da applicare sarà intorno all'un per cento in quanto l'immobilizzo nel fabbricato rappresenta un tipico esempio di capitale fondiario in particolar modo di miglioramento fondiario il capitale immobilizzato verrà considerato come valore attuale per una valutazione istantanea che può essere fatta in azienda mentre quando dobbiamo fare un calcolo in termini medi andrà benissimo il un mezzo del valore a nuovo considerando quindi il capitale immobilizzato alla metà della durata del fabbricato la quota di reintegrazione come già detto il costo di ricostruzione diviso la durata mi raccomando di non valutare durate eccessivamente lunghe sarà bene non andare oltre 40 50 anni la quota di manutenzione è valutata intorno allo 0 5 per cento del valore a nuovo e infine la quota di assicurazione solo se effettivamente sostenuta le quattro componenti che ci interessa sommare per calcolare il costo anno di utilizzo del locale di ricovero sono quelle che vanno dal punto 2 al punto 5 e naturalmente il costo anno del locale di ricovero sarà complessivo cioè relativo a tutte le macchine che vi vengono ricoverate per questa ragione il costo anno del locale va ripartito su ciascuna macchina in modo da caricare nel costo d'uso di ogni macchina solo la parte di costo del locale ascrivibile alla macchina stessa qui è fornito un esempio numerico valutato su un locale ipoteticamente adibito a ricovero avente una superficie di 80 metri quadri per un valore complessivo a nuovo come costo di ricostruzione pari a 70.400 euro ottenuti dalla superficie del locale per un costo di ricostruzione a metro quadro ipotizzato intorno a 880 euro a metro quadro con una durata ipotizzata intorno a 50 anni abbiamo un beneficio fondiario pari all'1 per cento della metà del costo di ricostruzione poi abbiamo una quota di reintegrazione valutata su 50 anni una quota di manutenzione una quota di assicurazione che in questo esempio numerico non è stata conteggiata perché non presente alla fine al il totale costo anno relativo al locale di ricovero macchine è pari a circa 2.110 per semplicità di calcolo abbiamo arrotondato 2.110 euro relativi a 80 metri quadri che significa che il prezzo d'uso il costo per l'uso di ogni metro quadro di ricodi locale di ricovero all'anno si aggira intorno a 26,4 euro quindi vuol dire che ogni metro quadro occupato da ciascuna macchina in termini annuali ha un costo che si aggira intorno ai 26,4 euro a metro quadro per arrivare alla ripartizione del costo anno su ciascuna macchina occorrerà tener conto della superficie che viene occupata da ognuna di esse e di quella naturalmente relativa alla sua movimentazione all'area di manovra da questo punto di vista sarà importante verificare la condizione che porta a far sì che la somma delle superfici attribuite a ogni singola macchina dia il totale dei metri quadri del locale di ricovero e che la somma dei costi parzialmente attribuiti per il ricovero a ciascuna macchina ricostituisca il totale costo anno di 2.110 euro e qui abbiamo l'esemplificazione della ripartizione del costo anno del locale su ciascuna macchina abbiamo il le superfici richieste da ogni singola macchina il cui totale ricostituisce la somma della superficie del locale di ricovero e poi abbiamo naturalmente il costo anno a metro quadro che scaturisce dal rapporto 2.110 diviso 80 metri quadri nell'esempio moltiplicato la superficie occupata da ogni macchina ottenendo così questo valore parziale che deve essere attribuito a ciascuna macchina tra i costi fissi annui di cui alla slide 2. Importante ricordare che anche in questo caso i costi parziali per l'uso del locale di ricovero nella loro somma devono ricostituire il totale del costo anno per il locale stesso quindi il valore così trovato andrà ad aggiungersi a quelli già identificati nella slide 2 questo schema rappresentato in questa tabella qua indicata è esattamente lo schema della slide 2 allora vediamo che il costo a questo punto abbiamo attribuito a ciascuna macchina il costo anno per l'uso del locale di ricovero e a questo dobbiamo aggiungere gli interessi sul capitale immobilizzato nella macchina stessa quello che chiamiamo beneficio scorta che verrà valutato a un tasso del 3% perché il capitale scorta richiede un tasso di interesse maggiore rispetto a quello utilizzato per il capitale fondiario poi aggiungeremo la e per quanto riguarda scusate ancora il capitale immobilizzato noi potremo scegliere se fare un calcolo medio e quindi scegliere un mezzo del valore a nuovo della macchina stessa oppure se valutare il capitale immobilizzato in modo istantaneo valutando esattamente sulla base del numero di anni della macchina qual è l'effettivo valore attuale della macchina stessa quindi scelta effettuata questa scelta otterremo l'importo degli interessi sul capitale macchina immobilizzato a cui dovremmo aggiungere la quota di reintegrazione secondo la formula che già abbiamo visto valore a nuovo meno valore residuo diviso la durata economica la quota di manutenzione che per una macchina si aggira in modo abbastanza congruo intorno al 2-3% del valore nuovo più gli eventuali costi assicurativi se vengono effettivamente sostenuti per la macchina e quindi infine anche il costo del ricovero la somma di queste cinque componenti fornisce il costo annuo complessivo della macchina utilizzata in vigneto non siamo ancora giunti al costo orario il calcolo del costo orario della macchina è semplicemente dato dal costo annuo della macchina stessa diviso rapportato alle ore totali di impiego della macchina queste totale ore di impiego della macchina sono quelle che vengono realizzato sull'intera sau aziendale quindi non solo sul vigneto ma sulla sau aziendale ecco perché il costo orario di ciascuna macchina è un valore che dipende è tipico e specifico di ciascuna azienda proprio perché dipende dall'intensità di uso che quell'azienda fa di quella macchina è un parametro totalmente indipendente dalla macchina stessa ma cioè totalmente indipendente è un parametro che risente fortemente delle condizioni organizzative e strutturali dell'azienda ed è importante sottolineare che in questo caso l'aspetto fondamentale in termini di superfici è la sau aziendale e non la superficie a vigneto maggiore è la sau maggiore sarà l'utilizzo della macchina in azienda e minore per conseguenza risulterà il costo orario della macchina all'azienda naturalmente a questi costi orari che verranno moltiplicati ai fini del processo vigneto per le ore di lavoro che la macchina dedica al processo vigneto si dovranno poi aggiungere nelle spese varie i consumi di carburante lubrificante che vengono stimati a partire da un consumo orario di nuovo moltiplicato per le ore di lavoro della macchina e infine la remunerazione delle ore di lavoro umana che verranno conteggiate alla voce beneficio di lavoro del processo culturale del vigneto. Alcuni brevi suggerimenti per cercare di ridurre il costo orario di una macchina in quanto questo elemento condiziona fortemente il costo del processo culturale vigneto e quindi è importante se possibile cercare di abbassare il costo orario di uso di una macchina. Per riuscire a fare questo sarebbe necessario riuscire a realizzare due obiettivi o almeno uno di questi. Da un lato cercare di limitare al massimo il costo annuo di ciascuna macchina e in particolar modo essendo questo molto legato al valore a nuovo e quindi all'esborso effettivo per la macchina evitare di acquistare delle macchine molto costose che non siano adeguate che non siano proporzionate alla dimensione fisica ed economica aziendale cioè se abbiamo un'azienda piccola dobbiamo evitare di effettuare un eccessivo investimento in una trattrice o magari avere due trattrici perché ci può essere più comodo avere una trattrice gommata e una trattrice cingolata. Questo non credo che succeda nelle piccole aziende alpine però molto spesso diciamo in aziende specialmente collinari si trova un elevato investimento in macchinari costosi. Ecco cercare di limitare l'investimento dei macchinari è sicuramente la prima buona indicazione per cercare di ridurre al massimo il costo annuo di ciascuna macchina. E un altro escamotage importante può essere quello di aumentare il più possibile le ore di impiego della macchina. Questo ovviamente si può fare sia in presenza di SAO non troppo limitate quindi da un certo punto di vista se si riesce, questo è possibile soprattutto in un'azienda agricola, viticola, professionale, cercare di aumentare la SAO questo può essere utile per sfruttare di più e al meglio le macchine presenti. Oppure si può cercare di realizzare contoterzismo attivo che significa fare delle lavorazioni per conto di altre imprese nelle vicinanze. Questo può essere o eventualmente nel caso di una trattrice a volte può succedere che sia lo stesso comune che richiede non solo sgombero neve, quindi l'utilizzo di certi mezzi che alcune aziende agricole hanno per effettuare determinati lavori. Insomma tutte queste cose possono aiutare ad aumentare il numero delle ore di lavoro abbassando quindi il costo orario. Infine l'ultimo suggerimento che può avere una buona validità per le aziende vitivinicole, viticole in montagna è quello di acquistare delle macchine in comproprietà con altri viticoltori vicini in modo tale da in questo modo avere uno sfruttamento migliore del mezzo.